Nasce l'Osservatorio del Lavoro e delle Politiche Occupazionali. È stato sottoscritto stamane nella Sala Nunes del Consiglio Comunale il protocollo di intesa a termine di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, oltre al Sindaco Luigi De Magistris e dal Presidente della Commissione Lavoro Antonio Crocetta, rappresentanti degli enti e soggetti che partecipano direttamente o indirettamente alle dinamiche del lavoro, la Prefettura, gli Assessorati Regionali e Provinciali al Lavoro, i Sindacati, le Università, le Organizzazioni Professionali ed Imprenditoriali. La finalità del nuovo organo è quella della programmazione e della politica di intervento sul mercato del lavoro. Per arrivarci è necessaria anzitutto una conoscenza profonda e qualificata delle dinamiche del sistema sociale ed economico su cui deve intervenire. Questa conoscenza deve realizzarsi attraverso un contatto costante e continuativo con le esigenze e le istanze dell'utenza, per arrivare ad un monitoraggio costante del mercato del lavoro. Sentiamo ora il Presidente della Commissione del Lavoro, Antonio Crocetta. Noi riteniamo che possa essere questo strumento dell'Osservatorio del Lavoro qualcosa di importantissimo che andrà non solamente a monitorare, a studiare, a capire, ma anche a programmare e a creare qualcosa di nuovo a livello occupazionale.